Pesce azzurro di maggiore pezzatura, uno sgombro particolare del posto che si chiama Aracolo, Isauri, Tracurus Tracurus, Sugarello, vediamo già un po' la differenza, questo è un po' più rigido, questo è un attimino meno rigido, stiamo parlando di 12-24 ore di differenza tra una pescata e un'altra e vediamo il sangue che sull'opercolo branchiale ci dovrebbe informare sulla sua differente freschezza, ma siamo sulle 12 massimo 24 ore di differenza, diciamo 24 per sicurezza, differente dall'Aracolo sgombro e quest'altro tipo di sgombro, anche qui vediamo un minimo di differenza nella freschezza, detti occhi grossi questi, si vede immediatamente la differenza e la dimensione dell'occhio, diversa livrea, sapore molto simile, possibilmente questo è un po' meno pregiato, quelli più pregiati sono sgombri e aracoli, differenza un attimo di pezzatura degli sgombri o aracoli, un minimo di differenza nella freschezza, nei colori della livrea, grigio azzurro tendente a giallo, soltanto azzurro questo. Grazie a tutti.